La parte posteriore e poi naturalmente avete la garanzia del fatto che hanno la vestibilità dei pantaloni Nina Leonard Vestibilità eccezionale, mentre diamo il benvenuto alla nostra Susanna Ciao Susanna, grazie di passare questa serata con noi, grazie mille per la tua collaborazione Eh sì, la vestibilità è una vestibilità eccezionale dei pantaloni in generale di Nina Leonard Dei pantaloni di Nina Leonard in generale, il motivo per cui ci sono voluti questi due anni è qualcosa Per arrivare alla formula definitiva era trovare il bilanciamento perfetto tra il cotone Che doveva essere la parte preponderante per dare l'effetto del denim Mantenendo sia dal punto di vista tattile sia dal punto di vista tecnico le caratteristiche del cotone E però mantenere anche le caratteristiche di elasticità e di forza dal pizzo Che ha questa lavorazione molto ampia, quindi un bel fiore ampio E un bel fiore che sì, certo ci rimanda un po' al mondo romantico del floreale Ma senza essere stucchevole A questo effetto concorre anche la manica Che è una manica che non è foderata Il pizzo di lana ovviamente garantisce un tepore adeguato alla stagione La manica è una manica a tre quarti E il gioco di vedo non vedo tra corpo dell'abito foderato e manica invece sfoderata È molto interessante in un prezzo che non sarà possibile mantenere a lungo Perché di capi a disposizione ce ne sono veramente pochi Nel nero per esempio vedete abbiamo la 40, poi la 50, la 52, la 54, la 56 Solo per farvi un esempio Ma non abbiamo tanti pezzi per taglia disponibile Quindi se vi interessa avere un pantalone bello, contemporaneo, moderno E che quasi non ha stagione Ecco questo potrebbe essere una buona scelta Anche perché il prezzo è super super interessante Susanna vedo che sei microfonata Scusate, rullo di tamburi Finalmente sentiamo la voce di una delle nostre indossatrici Allora tu parli Incredibile Che meraviglia Ciao a tutti, prima di tutto Ti raggiungo Sono molto felice di fare questa Anche io Insieme a te Tanto davvero, sono contentissima di essere qua insieme a tutti Ti volevo chiedere Come senti indosso questi pantaloni? Sono bellissimi In questo genere possono essere un po' scomodi magari quando ti devi sedere o salire una scala? Ma sono morbidi in realtà Quindi non li sento assolutamente costrittivi Cioè li sento molto morbidi Facciamo la prova in diretta a scala Facciamo un po' di squat La prova fitness Direi che l'hanno superata L'hanno superata Tu li hai abbinati a uno stivaletto Ma li vedresti anche con un tacco basso questi pantaloni nonostante siano cropped? Ma sai, cambiano un po' personalità Quindi secondo me sono versatili Si possono mettere un po' con tutto Anche una sneaker Li rende subito un pochino più quotidiani Per cui sì, lo farei Grazie Susanna Grazie mille Tra l'altro bellissima voce Sono contenta che le amiche a casa Vi hanno scoperto che tu non solo parli Ma hai anche una bellissima voce Ringrazio Simona che ci fa gli auguri Silvana è riuscita a risolvere il problema con il sito Quindi sono molto molto felice Anche se anche Luisa aveva dei problemi Però poi è riuscita a risolverli anche lei Insomma ragazzi io vi ringrazio tantissimo Di tutti gli auguri che stanno arrivando E non riesco a leggere tutti i messaggi Allora la nostra Susanna ci sta proponendo I pantaloni cropped in tessuto spalmato Che abbiamo visto poco fa Quindi pantaloni sicuramente molto contemporanei E molto grintosi Abbinati a questa tunica in jersey e lame Quindi vedete come anche questa tunica Partendo da un'aspirazione un po' A un raffinato romanticismo In realtà può essere molto molto grintosa Abbiamo visto anche questa tunica in maglia Firmata a Nina Leonard Anche qui troviamo la viscosa È un misto viscosa con questa lavorazione che allunga tantissimo la figura E ci dà proprio quell'effetto dei bei maglioni caldi lavorati Ma che grazie alla percentuale di viscosa non sono per niente scomodi Perché non prudono, non pizzicano, non pungono Non sono quei maglioni che necessitano di essere indossati sopra qualcos'altro A contatto con la pelle 30 euro è il prezzo strepitoso